Un pauroso incendio si è scatenato poco dopo le 16 al deposito logistico della UPIM a Ponte Nure. Sul posto i vigili del fuoco, i mezzi del 118 e le forze dell'ordine. Tutti i 100 lavoratori che si trovavano all'interno dello stabilimento sono stati evacuati. Un'alta colonna di denso fumo nero si è alzata nel cielo, visibile anche a chilometri di distanza, addirittura da Piacenza. Ancora ignote le cause che hanno scatenato le fiamme. I danni sembrano ingenti. Si è sentito un rumore, poi era tutto bianco, ho lasciato tutto e sono uscito. Eravamo lì durante la pausa e abbiamo visto il fumo dal tetto, era tutto buio, scuro e siamo corsi tutti fuori. A quanto pare nessuno è rimasto ferito, anche perché il piano di emergenza pare aver funzionato al meglio. Ero dentro e poi scattati all'antigendio abbiamo tutti quanti, ognuno di noi sapeva che cosa doveva fare perché abbiamo fatto già il corso antigendio e le prove, le procedure le abbiamo messe in atto tutte quante.